Ciao, sono Michele Vitale di BastaBollette.it. In questo video approfondiremo una sentenza in cui un operatore è stato condannato a 5.800 euro di indennizzo e daremo alcuni consigli per fare voi il vostro ricorso al Covecom. La sentenza di cui parliamo, di cui ci siamo già occupati nei nostri video del blog precedenti, riguarda la condanna di Infostrada per aver ritardato l'attivazione di una linea telefonica e ADSL di fronte alla richiesta dell'operatore. Si tratta di un indennizzo importantissimo e si tratta di una sentenza che pone alcuni paletti altrettanto importanti. Infatti sostanzialmente il Covecom dice che l'operatore non può più addurre a giustificazioni del suo comportamento delle circostanze pretestuose, non può più addurre pretesti come ad esempio io non ho installato la linea telefonica perché l'utente alla fine si è rifiutato di farmela installare. Non potrà più dire così, ma dovrà dimostrare puntualmente queste affermazioni e queste argomentazioni. Quindi prove certe. Alla fine del video vedremo anche alcuni consigli pratici che riguardano proprio l'analisi dei punti più importanti della sentenza. Passando a vedere il cuore della sentenza, cioè come sono stati calcolati questi indennizi così importanti, notiamo innanzitutto che questi indennizi hanno superato i massimali che vengono solitamente previsti dai contratti degli operatori, che sono molto bassi. Quello di Wind Infostrata, che è l'operatore di questa sentenza, ad esempio prevedeva un indennizzo massimo di 5 Euro al giorno fino a un massimo di 100 giorni, quindi venivano rimborsati, indennizzati al massimo 20 giorni di ritardo. Ebbene, l'autorità garante in una precedente decisione ha stabilito che il massimale del contratto degli operatori in sostanza non bisogna tenerne conto, perché non sarebbe proporzionale rispetto al danno subito dal consumatore. Per questo, applicando questa decisione del garante, il Corecom ha conteggiato tutti gli effettivi giorni di ritardo di Infostrata, che nel nostro caso sono stati addirittura 463 giorni, che moltiplicati i 5 Euro e 16 di indennizzo giornaliero, fanno un totale di oltre 2.000 Euro di indennizzo, soltanto per il ritardo nella attivazione della linea telefonica. È interessante osservare che l'articolo 3.3 della Carta dei Servizi, che prevede questo indennizzo di sole 100 Euro, nonostante siano passati ormai oltre 2 anni dalla decisione del Corecom, è ancora lì. Infostrata cioè non si è preoccupata di modificare quella massimale, è sempre di 100 Euro, il che significa che nel caso di ritardi superiore a 20 giorni, noi dovremo sempre farci carico di fare ricorso al Corecom, seguirlo e sperare nell'accoglimento del nostro ricorso. Secondo motivo di indennizzo della sentenza, il ritardo della linea DSL, quindi il ritardo dell'allaccio della linea telefonica viene considerato motivo separato dal ritardo dell'allaccio della linea DSL, quindi si ha diritto a ricevere due indennizi distinti e separati per ognuna delle due componenti del servizio, telefonia e a DSL. Anche la DSL, nell'esempio della sentenza che stiamo commentando, ha subito un ritardo dell'attivazione elevatissimo, anche lì oltre 400 giorni, quindi sono oltre 2000 Euro di indennizzo per il ritardo nella DSL. Terzo motivo di indennizzo, la mancata risposta al reclamo del cliente. Il garante ha stabilito in passato che ogni qualvolta il cliente fa un reclamo scritto, l'operatore è tenuto a rispondere in maniera motivata entro i termini stabiliti dal contratto della carta dei servizi. Nel caso di quindi questi termini erano 45 giorni, nel caso della sentenza in questione, Infostrada non ha mai replicato e quindi si sono calcolati tutti i giorni del ritardo nella risposta fino al giorno della richiesta al Coricom e anche lì sono arrivati a circa 800 Euro di indennizzo per la mancata risposta al reclamo. Le spese che il cliente, in cui il cliente incorre per fare ricorso al Coricom vengono anche quelle indennizzate dalla compagnia telefonica. Ultima richiesta indennizzata da parte del cliente era quella relativa alle spese di procedura, anche questa è una prassi consolidata ormai nei Coricom che le spese di procedura per il ricorso del cliente vengono riconosciute, in questo caso gli sono state riconosciute 200 Euro.